La Guardia di Finanza La Guardia di Finanza I sindali smentiscono la chiusura di oncologia. Il direttore sanitario della Aslantelli mette fine alle polemiche e attacca. Verrocchio crea solo allarme sociale. Riordino delle province domani nuovo incontro del Cale. Il presidente Catarra incalza i sindacati sul problema dei lavoratori a rischio esubero. Anche la pulizia municipale del comune di Teramo si dota di uno strumento per misurare il tasso alcolico degli automobilisti. Cappellacci cambia tutto per la sfida di Coppa Italia all'Aquila confermato il solo Novinici. In avanti spazio a De Stefano, Bellucci e Patierno. Rinviato a domani l'incontro con Foglia per il suo tesseramento. Il San Nicolò tra le outsider e il girone F della Serie D. La squadra di Edmondo di Amicis considerata una mina vagante. In eccellenza il Giulianova resta favorito ma i giallorossi ancora non convincono. La società pronta a tesserare gli attaccanti Saccia e Improta. Buonasera e benvenuti all'edizione serale del nostro telegiornale. Buonasera, benvenuti. Cominciamo. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca, una brutta pagina di cronaca. Perde una gamba nello scontro contro un'auto a Pineto. LM, le sue iniziali di 44 anni, operaio, si trovava sulla sua Harley Davidson oggi a Cerney Pineto quando si è scontrato per cause ancora sotto esame contro una Ford Fiesta. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Mazzini di Teramo e si trova ancora in sala operatoria. Le ferite riportate alla gamba sinistra sono state però talmente gravi da rendere necessaria l'amputazione dell'arto. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Pineto. E ancora cronaca perché la Guardia di Finanza della provincia di Teramo ha scoperto una società nel Teramano che ha sottratto ben 7 milioni di euro di base imponibile al fisco. Vediamo il servizio. Al termine di un'articolata e complessa verifica fiscale eseguita nei confronti di una società della provincia di Teramo, i militari della Guardia di Finanza hanno segnalato all'Agenzia delle Entrate il recupero a tassazione di materia imponibile per circa 7 milioni di euro. In particolare l'attività ispettiva condotta ha consentito di far emergere complesse e articolate operazioni societarie, poste in essere con il precipuo intento e finalità, esclusivamente orientate all'evasione d'imposta, mediante condotte che hanno consentito l'indebito ingente risparmio di imposte, mediante sottrazione di base imponibile per circa 7 milioni di euro. In dettaglio nei confronti della società sono state contestate le seguenti violazioni. Indebite e deduzioni di costi conseguenti a sopravvenienze passive per circa 3 milioni e 800 mila euro, derivanti da operazioni prive degli elementi essenziali, quali ragioni economiche e documentazione, probatoria che ne avrebbero giustificato l'imputazione a costo straordinario dell'esercizio esaminato. E poi regolare dichiarazione ai fini fiscali di plusvalenze per circa 3 milioni e 200 mila euro, derivanti dalla cessione di quote sociali di una società totalmente partecipata dalla società verificata. Le suddette operazioni ritenute elusive dai militari della Guardia di Finanza hanno procurato alla società un risparmio di imposte tra Ires e Irap per circa 2 milioni di euro. L'amministratore della società è stato denunciato all'autorità giudiziaria per violazione al decreto legislativo numero 74 del 2000. Buone notizie dalla Regione. Intanto boccata d'ossigeno per le imprese abruzzese. 40 comuni avevano infatti richiesto alla Regione Abruzzo di sforare il patto di stabilità per soddisfare le richieste economiche degli imprenditori. Ed ora sono in arrivo 25 milioni di euro. Vediamo. La Giunta regionale ha approvato una delibera sull'attivazione del patto di stabilità verticale che consente ai comuni abruzzesi di sbloccare i limiti imposti dal patto di stabilità per il 2012 per una cifra pari a 25 milioni 624 mila euro, ovvero il 30% dei circa 84 milioni richiesti. Il provvedimento, illustrato questa mattina dall'assessore agli enti locali della Regione, Carlo Masci, consentirà ai comuni abruzzesi di far fronte ai crediti verso i fornitori e soprattutto di pagare le imprese che hanno effettuato lavori per le pubbliche amministrazioni. In particolare, dei 55 comuni abruzzesi con più di 5 mila abitanti interessati dal patto di stabilità, 40 hanno presentato la richiesta alla Regione perché avevano la necessità di sforare le cifre limite imposte dal patto. L'obiettivo della Regione però è quello di arrivare entro fine anno ad un totale di circa 30 milioni di euro attraverso il patto di stabilità orizzontale. Una grande boccata d'ossigeno per le imprese abruzzesi, ha detto Masci, e più in generale per il territorio. Il nostro tessuto produttivo ha la possibilità di ottenere dagli enti locali 25 milioni di euro che non avrebbe ottenuto se non ci fosse stata questa operazione. Vista la grave emergenza legata alla difficoltà delle imprese nel farsi pagare per i lavori effettuati dai comuni, la Regione ha accolto il grido d'allarme del territorio con grande determinazione e ha rinunciato per il 2012 ad una quota del proprio patto di stabilità. È un'operazione rivolta sia ai comuni ma che va a vantaggio delle imprese abruzzesi, ha concluso Masci, che vivono attualmente un grave disagio in parte risolto da questo provvedimento. Le buone notizie non sono finite perché il Governo centrale premia il risanamento della sanità abruzzese con 60 milioni di euro, quale quota parte delle spettanze residue del 2010. Vediamo. Per la sanità abruzzese sono in arrivo 60 milioni di euro, quale quota parte delle spettanze residue per il 2010 che ammontano a 178 milioni di euro. La premialità è all'esito della positiva valutazione trimestrale del tavolo ministeriale di monitoraggio del 23 luglio. Lo ha reso noto il commissario ad acta per la sanità e presidente della Giunta regionale, Gianni Chiodi, che ha aggiunto che l'Abruzzo è l'unica tra le otto regioni in piano di rientro che ha fatto registrare a consuntivo 2011 un avanzo di 91 milioni 981 mila euro senza avere avuto bisogno di ricorrere a risorse proprie. I dati sono stati pubblicati da Quotidiano Sanità, che pone in relazione le performance delle otto regioni, promuovendo a pieni voti l'Abruzzo. Il tavolo di monitoraggio e il comitato, ha commentato Chiodi, hanno preso atto dati alla mano della nostra attività di risanamento, avvenuta senza ricorrere all'innalzamento dell'aliquota fiscale, ma razionalizzando la spesa. Il tavolo, ha aggiunto il presidente della Regione, parla testualmente di importante lavoro svolto per la ricostruzione puntuale dei crediti e dei debiti verso il bilancio regionale. La virtuosità dimostrata dalla Regione Abruzzo, ha proseguito Chiodi, ha portato all'immediato beneficio dell'erogazione di 60 milioni. Il tavolo ha poi chiesto di accelerare su piano della residenzialità e semi-residenzialità, completamento degli hospice per i malati terminali, completa attuazione della rete laboratoristica e ridisegnazione della rete di emergenza-urgenza. La Regione Abruzzo dovrà fornire poi una relazione sulle iniziative intraprese in applicazione della Spending Review. Domani nuovo incontro del Cal per discutere del riordino delle province. Il presidente della provincia di Teramo, Walter Catarra, si domanda come mai i sindacati non si pronunciano in merito al problema dei numerosi lavoratori a rischio esubero. Sentiamo. Presidente Catarra, si può anche scherzare in questo momento dicendo che questi potrebbero essere gli ultimi giorni del suo mandato? Diciamo che la sua affermazione potrebbe non essere uno scherzo, nel senso che si potrebbe avverare sul serio. Purtroppo sì. Chiaramente, probabilmente, arriveranno alla fine del mandato ma non è questo il problema. Il problema è che effettivamente si è creata una situazione per cui alcune province verranno accorpate ad altre, ci sarà un riordino e la provincia di Teramo sembra candidata al riordino. Naturalmente si stanno facendo le proposte, il Cal sta lavorando. Ecco, Presidente, ci potrebbero essere anche tante altre problematiche legate a questa eventuale decisione, come ad esempio la fine che farebbe Teramo Lavoro. Sì, Teramo Lavoro è una parte del problema. Io sono mesi che dico, mi sembra strano che i sindacati non si pronunciano su questa vicenda, perché ci saranno migliaia di lavoratori in esubero, probabilmente, migliaia di lavoratori in mobilità, ma nessuno dice nulla. Quindi questo sarà tutto da verificare. È chiaro che in provincia di Teramo c'è la Teramo Lavoro che si occupa di tante cose, ma nello specifico, per esempio, dei centri per l'impiego di cui non si conosce il futuro, la prospettiva, non si sa bene che fine faranno, se saranno regionalizzati i centri per l'impiego o passati ai comuni. E questo può essere grave per la Teramo Lavoro, ma per i lavoratori in generale. Quindi il problema va posto e qualcuno dovrà cominciare a dare delle risposte anche. E CGL e CISL chiedono un incontro urgente al governatore Gianni Chiodi, proprio in riferimento alla situazione della Teramo Lavoro, un incontro che ritengo indispensabile per che possa fare chiarezza e fornire le dovute garanzie a tutto il personale impegnato nelle suddette attività e dall'utenza Teramana che usufruisce dei medesimi servizi. Tale incontro è divenuto urgente anche alla luce dei ritardi nell'erogazione degli stipendi ai dipendenti dovuti alla nota vicenda del blocco dei fondi da parte della Regione e della Comunità Europea. Il sindaco di Pineto, Luciano Monticelli, segretario del CAL, torna ancora sulla questione del riordino delle province, ribadendo ancora una volta e con assoluta fermezza la sua posizione al riguardo. L'abolizione delle province deve essere totale. Se l'obiettivo del governo, ha detto Monticelli, è l'abbattimento dei costi della politica e credo che nessuno possa negarlo, allora la problematica troverà definitiva soluzione solo con la soppressione di tutte le province. E per Manola Di Pasquale del PD realizzare un teatro con 8 milioni di euro è un assurdo politico e un progetto impossibile. Vediamo. Pensare di realizzare un teatro del costo complessivo di circa 7 milioni di euro attraverso un project che prevedeva un investimento di 44 milioni è un assurdo politico e un progetto impossibile. E la posizione del consigliere comunale del Partito Democratico di Teramo e presidente della Commissione di Vigilanza Manola Di Pasquale che è intervenuta sul fallimento del project financing del teatro Teramano. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, dice la Di Pasquale. È da anni che il Partito Democratico dichiara che il progetto sponsorizzato dall'amministrazione Brucchi per realizzare il teatro non aveva le gambe, o meglio ancora, le risorse per andare avanti. Pare infatti essere stato del tutto accantonato il progetto della ditta Straferro SRL ma il Comune ha comunque assicurato che il teatro sarà realizzato con una disponibilità economica di 8 milioni di euro. Ancora incerto però il luogo sul quale dovrebbe sorgere l'opera. Durissime però le critiche del consigliere comunale di Pasquale che dice ostinatamente l'amministrazione di centrodestra e il sindaco Brucchi hanno portato avanti un progetto palesemente inattuabile facendo perdere tempo e soldi alla città e manifestando la loro incapacità da amministrare dimostrando così il loro fallimento. Il nuovo teatro, proseguila di Pasquale, fiore all'occhiello del programma del sindaco così gridava Brucchi mentre buttava nel cestino 5.000 firme dei cittadini terramani che chiedevano un'attiva partecipazione nelle scelte importanti della città, non si realizzerà. Invece del nuovo teatro, conclude il consigliere, dopo sette anni l'amministrazione di centrodestra lascia alla città di Teramo un costoso contenzioso con la ditta. Tutto il resto sono solo chiacchiere e ne devono prendere atto. E' puntuale arrivata la replica del sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Il PD scrive Brucchi alla memoria corta, anzi cortissima. Lo dimostra l'ultima sortita del consigliere Manola Di Pasquale. Vorrei perciò rinfrescare la memoria del presidente regionale del PD, appunto la stessa Di Pasquale. Mi piace ricordarle, dice Brucchi, innanzitutto, che il project financing del nuovo teatro è stato votato in consiglio comunale a Teramo dal suo stesso partito. Eppure periodicamente la Di Pasquale lancia strali contro il centrodestra, ma dimentica di ricordare questo dettaglio. E' bene far notare, senza tornare sulla ricostruzione ormai nota dei fatti, che se il project financing del teatro non è andato in porto, ciò non lo si può certo addebitare alla maggioranza di centrodestra che governa Teramo. Non so, prosegue Brucchi, poi, di quale contenzioso parli il consigliere PD. Una cosa comunque è certa, l'amministrazione comunale di Teramo per il progetto in questione non ha speso un euro, anzi avrà quale risarcimento la riscossione della polizza fidei ussioria. Va detto infine, e sempre per prodursi in un esercizio di memoria, continua Brucchi che Teramo sta ancora aspettando il teatro sbaglierato dalla giunta sperandio. E poi conclude il sindaco di Teramo, il nuovo teatro era e sarà il fiore all'occhiello di questa maggioranza che continuerà a lavorare per la crescita del nostro territorio. Tutto il resto sono chiacchiere. E a Giulianova si è svolta la festa provinciale del PD e nell'ambito della manifestazione è stato organizzato un dibattito sulla sanità al quale hanno partecipato tra gli altri i senatori Lionello Cosentino e Giovanni Legnini e il consigliere regionale Claudio Ruffini, presente anche il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro. Vediamo il servizio. Si è parlato di sanità alla festa democratica organizzata dal PD a Giulianova. Gli esponenti locali del partito hanno parlato di fallimento della giunta regionale in campo sanitario. Ha partecipato tra gli altri il senatore Lionello Cosentino. In verità le regioni dove la sanità funziona bene, penso l'Emilia, hanno un bilancio in ordine ma hanno anche servizi sanitari, ospedali, reti di medici di famiglia, di ambulatori che funzionano. Ora io credo che debbano essere sempre tenuti presenti tutti e due i fattori, che i conti siano in ordine e che i cittadini abbiano diritto alle loro risposte. Questo non avviene quando per fare una mammografia o un'ecografia devi aspettare tre mesi o sei mesi o nove mesi e poi la storia la conosciamo tutti. Tu telefoni al CUP per prenotarlo, ti dicono fra sei mesi ma se paga vieni domattina, stessa e te la facciamo, questo deve finire. Ma la sanità ha soprattutto un problema di cambiare la qualità dell'organizzazione delle reti dei servizi a partire dalla medicina sul territorio, la difficoltà di legare, di mettere insieme, di far funzionare il medico di famiglia, l'ambulatorio, l'ospedale. Spesso il cittadino è solo, dopo un intervento chirurgico sono io che devo cercarmi di mettere in lista d'attesa per avere le cure successive o è una rete che funziona per me. Da questo punto di vista è una specie di supermarket in cui se sei fortunato trovi anche professionisti in gamba ma devi fare tutto da solo. Parliamo ancora di sanità con una nota del direttore sanitario dell'ASL di Teramo, Camillo Antelli. Il segretario provinciale del PD, Robert Verrocchio, scrive a Antelli, mente sapendo di mentire. Nella migliore delle ipotesi è un ignorante nel senso che ignora gli atti aziendali, secondo Antelli. Come è possibile immaginare, dice infatti, che l'azienda volesse chiudere l'unità operativa complessa di oncologia nel Mazzini di Teramo dopo averla inserita nelle unità operative complesse previste nell'ambito del Dipartimento per le discipline mediche del nostro atto aziendale dopo aver verificato positivamente e confermato l'incarico di direzione della stessa al dottor Amedeo Pancotti. Antelli pertanto invita Verrocchio e Borgatti in futuro a documentarsi prima di sparlare ed invitando i cittadini tutti a farsi un'idea sulla vicenda e come la si è voluta strumentalizzare creando un'allarme sociale per fini poco nuovi. Continuiamo a parlare di sanità perché le problematiche investono, secondo il consigliere comunale dell'IDV Valdo di Buonaventura, anche l'ospedale Mazzini di Teramo, a partire dalla questione dei parcheggi fino ad arrivare all'annoso problema delle liste d'attesa e all'assenza di climatizzatori nei reparti. Vediamo. Piazza, i partiti del centro-sinistra per proseguire una battaglia relativamente all'ospedale Mazzini su alcune priorità che già da alcune settimane avevate messo sul piatto della bilancia. Sì, già abbiamo iniziato circa un mese e mezzo fa, volevamo porre all'attenzione delle istituzioni sanitarie le problematiche che investono nell'ospedale di Teramo per cercare di migliorare le situazioni che vanno dalla mancata climatizzazione dei reparti, dal potenziamento dell'ospedale oncologico, dal problema dei liste d'attesa, anche per quanto riguarda il pronto soccorso. Oggi, in continuità con quell'iniziativa, affrontiamo il problema della problematica del reparto oncologico che era stato chiuso nel periodo estivo, quindi si paventava l'idea di che fosse chiuso per sempre, quindi abbiamo chiesto, non solo chiediamo la riapertura, ma chiediamo il potenziamento di quel reparto, perché significa grandire a chi vive un momento drammatico della propria esistenza, un'adeguata assistenza in un ospedale pubblico. E quindi ci impegniamo questo e la nostra iniziativa tende a sensibilizzare le istituzioni sanitarie affinché si appronta al meglio queste problematiche per garantire il diritto alla salute dei cittadini. Anche la Polizia Municipale del Comune di Teramo si dota di uno strumento per misurare il tasso alcolico degli automobilisti. Lo strumento è stato acquistato e donato dall'Automobile Club di Teramo. Vediamo il servizio. Intanto ringrazio l'ACI, il Presidente Vincenzo Di Gianluca, di questo prezioso dono che ha fatto alla Polizia Municipale. È un oggetto molto importante che permetterà alla Polizia Municipale di rilevare anche quei tassi alcolemici da 0 a 0,05 e quindi in particolare per i neopatentati, gli under 21 e i professionali soprattutto. Sappiamo benissimo che i dati sono allarmanti degli incidenti provocati dall'alcol e quindi questo permetterà anche alla Polizia Municipale di Teramo di verificare sul territorio in maniera più puntuale queste situazioni patologiche. Sappiamo benissimo che questo è un fatto repressivo ma noi vogliamo puntare anche sulla prevenzione che è la cosa più importante. Sappiamo benissimo anche che la Polizia Municipale negli ultimi tempi ha iniziato un'iniziativa a portare avanti di informare soprattutto i giovani nelle scuole di quanto sia importante andare sul veicolo in maniera sobria, più sobria possibile perché oltre a tutelare se stessi soprattutto si tutelano gli altri che insomma non hanno colpe. E quindi repressione sì ma procederemo su questa strada della prevenzione e penso che un altro anno andremo oltre alle scuole medie anche nelle scuole superiori per portare questo messaggio importantissimo per i giovani. E la scorsa notte il Comune di Teramo ha dato il via al piano asfalti che prevede la sistemazione di una serie di strade cittadine. Vediamo. Come annunciato nei giorni scorsi sono partiti i lavori per il rifacimento del manto stradale in Via Le Crucioli e in Via Cona. Sì sono partiti proprio ieri notte intorno alle 10. Abbiamo deciso all'ultimo momento di fare i lavori di notte per creare i meno disagi possibili comunque alla circolazione che è vero che anche se non ancora non riapro tutte le scuole però comunque di traffico il giorno già ce n'è abbastanza quindi anche se chiaramente c'è una maggior azione sul prezzo quindi comunque abbiamo indicato l'orario notturno come quello migliore. Certo mi dispiace un po' per i residenti perché chiaramente un po' di disagi ci stanno però era l'unico modo per creare meno disagio possibile. I lavori purtroppo andranno avanti almeno per le prossime due notti perché sono diversi punti sia in Via Le Crucioli che in Via Cona. Quello che vedete oggi sul posto è il primo strato è il binder quindi chi lo vede non si preoccupa perché può sembrare un po' grezzo come asfalto visto in questo momento ma diciamo quella è la fondazione quindi per fare un asfalto il più resistente possibile. Quindi si andrà avanti questa notte continueranno i scavi e faranno questa specie di fondazione e poi la notte tra mercoledì e giovedì dovrebbero fare tutto il tappetino finale di chiusura in modo che comunque il giorno per la circolazione non ci sono problemi. Poi nei prossimi giorni invece i lavori notturni sarà solo questo perché solo Via Le Crucioli era quella più critica. Continueremo in altre vie all'interno di Teramo ma che creeranno sicuramente meno problemi perché sono Via Barnabè, Via Biondi quindi comunque non c'è una grossa concentrazione di traffico e poi se il tempo ce lo permette passeremo nelle frazioni e cerchiamo di dare più risposte possibili anche lì nelle frazioni. Ricordo l'intervento comunque totale è di 275 mila euro che ci permette in dando di dare delle prime risposte sperando che nel prossimo anno possiamo sicuramente utilizzare più fondi per quello che riguarda gli asfalti. Abbattimento del 40% dell'inquinamento luminoso e 17 milioni di euro di investimenti in tre anni con il progetto Paride. Oggi in provincia incontro con 33 comuni per entrare nel vivo delle attività progettuali. A breve reclutamento di tecnici per l'avvio delle attività. Vediamo il servizio. Una giornata dedicata all'ambiente e alle tematiche della sostenibilità in particolar modo illuminazione pulita e risanamento delle aste fluviali. Sì, oggi una giornata particolare, importantissima per la provincia di Teramo. siamo con i 33 sindaci che fanno parte del progetto Paride, l'unico progetto finanziato dalla Commissione Europea su energia intelligente in Italia. È uno dei sette progetti finanziati in Europa. Questo progetto riguarda appunto la riqualificazione energetica di 60 mila punti luce ricadenti appunto nei 33 comuni. Non solo l'adeguamento alla legge regionale 12-2005 che riguarda l'inquinamento luminoso, ma noi vorremmo andare anche oltre questi dati e queste finalità del progetto. Sicuramente si è parlato di smart grid, quindi le città intelligenti. Noi vogliamo che attraverso questa rete che comunque è esistente, quindi questi pali della luce esistenti sui comuni, possiamo andare oltre questo che abbiamo detto e quindi programmare un futuro intelligente per le nostre città. C'è molta partecipazione da parte dei sindaci della provincia di Teramo. Questo è un segnale di vicinanza alle politiche ambientali della provincia? Sì, c'è molta vicinanza. Diciamo che questo progetto è figlio del patto dei sindaci, quindi c'è un'adesione, una sensibilità a queste tematiche. Le amministrazioni stanno rispondendo in modo estremamente rapido e anche in modo coerente. Andiamo a parlare della stagione venatoria perché l'assessore regionale Mauro Febbo afferma che non c'è stata nessuna chiusura e che dimostrerà al TAR la validità delle scelte. Vediamo. La Regione precisa che non vi è stata alcuna chiusura della caccia e prende atto del provvedimento del TAR emanato in un'ottica di estrema prudenzialità che comunque non inficia la validità del calendario venatorio. Lo ha dichiarato l'assessore alla caccia Mauro Febbo che interviene in merito al decreto del TAR che ha accolto la domanda cautelare relativa al ricorso presentato contro il calendario venatorio 2012-2013 dal WWF e dagli animalisti italiani. Per quanto riguarda la tutela delle specie inserite nella categoria SPEC, Species of European Conservation Concern, prosegue Febbo, il calendario, eccezione fatta per le specie quaglia e tortora, ha previsto l'apertura al 30 settembre, attenendosi alle indicazioni della guida ISPRA. Per il prelievo venatorio nei siti della Rete Natura 2000, la Regione Abruzzo ha già comunque previsto misure di protezione aggiuntive rispetto al restante territorio regionale. Infine, in relazione al prelievo nelle aree di presenza dell'orso individuate dal PATOM, si sottolinea come il PATOM stesso, non escluda l'esercizio dell'attività venatoria, ma indichi solo le modalità di caccia ritenute incompatibili con la presenza dell'orso. Sulla scorta di tali indicazioni, la Regione ha seguito un percorso in base al quale ha recepito le indicazioni tecniche formulate ed ha individuato modalità di prelievo venatorio compatibili con la presenza dell'orso. Siamo sicuri, dice Febbo, che la validità delle scelte operate dalla Regione sarà verificata nell'udienza del 26 settembre, in occasione della quale verrà dimostrata e documentata l'attenzione prestata a un tema sensibile come quella del prelievo venatorio nella Regione Verde d'Europa. E dalla caccia passiamo alla pesca, vertice giovedì prossimo a Pescara per discutere della richiesta dell'evongolare di pescare all'interno dell'area marina protetta del Cerrano. Per Walter Squeo, responsabile di Feder Pesca e vicepresidente del COGEVO, bisogna individuare un'area di pesca, altrimenti per l'evongolare sarà crisi profonda. Sentiamo. Ci affidiamo all'assessore regionale Mauro Febbo affinché si adoperi presso il Ministero dell'Ambiente per rivedere una decisione quanto mai affrettata ed inopportuna. E quanto fa sapere Walter Squeo, vicepresidente del COGEVO, il consorzio di gestione dell'evongolare a proposito della ridefinizione dei confini dell'area marina protetta del Cerrano, interdetta definitivamente alla pesca. Nei giorni scorsi Squeo, in qualità anche di responsabile regionale di Feder Pesca, aveva sollecitato la convocazione di una conferenza regionale del sistema ittico e dell'acquacultura per affrontare la delicata questione. Un mese fa circa la manifestazione di protesta degli 82 equipaggi dell'evongolare in prossimità della torre di Cerrano che rivendicavano la possibilità di pescare all'interno dell'AMP. Domani a Pescara le parti torneranno a sedersi attorno ad un tavolo. Il segretario di Feder Pesca è convinto che se non verrà riservata un'area di pesca all'interno dell'AMP per l'evongolare si aprirebbe uno stato di crisi non di poco conto. L'area marina protetta, ricorda Squeo, è stata istituita col chiaro intento di tutelare la fauna ittica, ma si era deciso anche di individuare una zona di pesca con l'intento inoltre di creare un marchio per l'avongola DOP. Allo stato attuale l'AMP viene considerata dal COGEVO e da Feder Pesca del tutto inutile. La categoria ha ricordato che l'interdizione all'attività di pesca all'interno dell'area marina protetta del Cerrano pari a circa il 10% della superficie del compartimento di Pescara andrebbe a compromettere la gestione generale della pesca alla pregiata Venus Galina con conseguente ulteriore aumento della pressione sullo stocchi ittico nei fondali aperta alla pesca con rischio di mettere in crisi 82 imprese in un momento di grande difficoltà economica. 100 discipline sportive per la quarta edizione di Sportissimamente. lo Sport sotto le stelle, la manifestazione ormai consolidata che si svolgerà nel centro storico di Teramo si terrà appunto sabato 15 settembre. Vediamo. Quarta edizione di Sport sotto le stelle, una manifestazione ormai consolidata che è diventato punto di riferimento non soltanto della regione Abruzzo ma direi a livello nazionale perché ci sono comuni che saranno presenti a Teramo quella sera per cercare di vedere come l'assessore Campania è riuscito ad organizzare ancora una volta questo evento in un anno difficile perché devo dire che abbiamo veramente potuto mettere a disposizione dell'assessore poche risorse perché poche ce ne sono però una grande collaborazione da parte di tutti, da parte di istituzioni, di enti ma anche di attività imprenditoriale, attività commerciale e questo è positivo. Quindi una serata che diciamo all'insegno dello sport, io credo che chi vive bene lo sport vive bene e quindi è anche un messaggio che vorrei dare da questo punto di vista, lo sport è salute da 360 gradi. È chiaro che 15 a sera ci sarà forse qualche disagio per la mobilità però insomma credo che valga la pena di soffrire un po', insomma andiamo a piedi in giro per la città, lasciamo le macchine parcheggiate nei nostri garage, nei nostri parcheggi, insomma è una notte da vivere la città in maniera diversa, saranno presenti tutte le discipline sportive, persino il golf, l'equitazione, davvero tutte le discipline sportive e quindi sarà anche un'occasione per tanti ragazzi magari di orientarsi, ogni anno in questo periodo più o meno ai genitori si crea il problema di che cosa farà il figlio l'anno in corso, cioè a quale sport dovrà iscriversi e credo che anche il sport sottolestere possa essere visto in quest'ottica. Adesso andiamo a scoprire insieme le previsioni del tempo per la giornata di domani con Meteoteramo.it Previsioni per domani in provincia di Teramo, al mattino tempo soleggiato su tutto il territorio provinciale, nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità ad opera di velature e stratificazioni, peggioramento delle condizioni atmosferiche tra sera e notte con possibilità di rovesci e temporali in transito, temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 30 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 28 e 31 gradi sulle coste, venti deboli o moderati sud-occidentali, adriatico quasi calmo. Apriamo la pagina sportiva parlando di Teramo Calcio, Teramo impegnato domani sera all'Aquila in Coppa Italia, a seconde linea in campo nella squadra di Mister Cappellacci, intanto è saltato di nuovo l'incontro con Fabio Foglie, il centrocampista in prova nel Teramo da qualche giorno, l'incontro è stato fissato per domani mattina, vediamo il servizio. L'impegno è notturna domani sera per il Teramo di Cappellacci, scenario è lo stadio fattore dell'Aquila per la gara decisiva per il passaggio del turno di Coppa Italia. La squadra di Mister Graziani comanda infatti la classifica del girone L con tre punti, il Teramo è a quota un punto frutto del pareggio contro il Foligno e se dovesse vincere passerebbe di conseguenza il turno. Il rosso-blu invece in caso di sconfitta potrebbero ancora sperare di passare il turno come una delle sette migliori seconde classificate. Dall'inizio ufficiale della stagione proprio il 26 agosto contro il Foligno, Teramo ed i tre punti non hanno ancora stretto un rapporto da morosi sensi. L'obiettivo dei bianco-rossi è chiaramente il campionato, ma nessuno degli uomini di Cappellacci ci tiene a fare brutte figure in un momento in cui appunto la prima vittoria non è ancora arrivata. Domani sera il solo Novinic dovrebbe essere riconfermato dalla gara contro il Gavorrano. Per il resto spazio alle seconde linee, con Granata non più destinata al taglio e Caidi centrale difensivi. De Stefano, Bellucci e Patierno in avanti del 4-3-3 del Teramo. L'Aquila arriva alla sfida contro il Teramo dopo la sconfitta in casa di domenica scorsa contro il Ponte d'Era. I tre punti conquistati contro la Salernitana delle Meraviglie nella prima giornata di campionato avevano fatto subito volare alto le ambizioni degli Aquilotti. Contro il Ponte d'Era giocare con un uomo in meno, vista l'espulsione di testa, ha di certo influito. La sfida contro l'Aquila serve comunque al Teramo per testarsi contro una squadra costruita per primeggiare in seconda divisione. Viceversa il Teramo serve all'Aquila per ritrovarsi dopo lo stop casalingo. E' Coppa Italia, ma nessuno ci sta a prendere imbarcate in questo momento della stagione. Si gioca alle 20 e 30 al fattori. Per i tifosi biancorossi che volessero seguire la squadra è necessario aver sottoscritto la testa del tifoso per entrare allo stadio. Dopo due giornate di campionato nel Giron F della Serie D non c'è una squadra a punteggio pieno. Facciamo il punto con il servizio. Nessuna formazione a punteggio pieno. Quattro squadre in testa alla classifica e una sola ancora ferma al palo con zero punti. E' il dato ovviamente parziale che emerge dopo due turni nel Giron F della Serie D. Campionato che nei primi 180 minuti ha evidenziato un grosso equilibrio. Dire che questa sarà la costante del campionato onestamente è ancora prematuro, ma è altrettanto vero che chi sulla carta viene indicato come il favorito per la vittoria del campionato dovrà in ogni caso sudare. Due gli esempi calzanti in questa direzione. L'Ancona di Agusto Gentilini fermata in casa nella derby con la Iesina e la San Benettese sconfitta in casa dalla sorpresa Miternina, capace di raccogliere quattro punti nelle prime due giornate. Particolare statistico, la Samba è stata sconfitta dopo una striscia positiva di 33 gare. Altre due formazioni invece, Civitanovese e Isernia, che nella scorsa stagione hanno respirato l'aria di vertice. Hanno avuto un avvio di stagione sofferto, con appena un punto totalizzato. La domenica calcistica però ha regalato soddisfazioni per le quattro formazioni abruzzese comprese nel raggruppamento. L'impresa di giornata l'ha scritta il San Nicolò, sconfitto all'esordio dalla Samb, ma capace di rifilare quattro reti all'ambizioso Fidene. Nella squadra di De Amicis sono andati a segno tutte e tre gli attaccanti. Rocco Costantino, uno dei confermati della passata stagione, è al comando della classifica Cannonieri con tre reti. Stesso discorso per la Miternina, che sbanca il Riviera delle Palme. Preziosa l'affermazione della Renato Curi-Angolana, che passa per 2-0 sul campo di Marino, con reti di Musili e Vespa. La politica dei piccoli passi invece accompagna in questa fase il Celano, che ha raccolto due pareggi. I classicani, nella circostanza, riescono a risalire dall'1 a 3 ed agganciare l'Agnonese. Due giornate di campionato, come detto, sono decisamente poche per esprimere giudizi compiuti e di sicuro i valori verranno fuori. Il romanzo del Gironè F, infatti, è soltanto al secondo capitolo. Andiamo in eccellenza e facciamo il punto con il prossimo servizio dopo la seconda giornata di campionato. Vediamo. È un campionato duro, quello di eccellenza. Il Giulianova non può fare affidamento sul suo passato, sul proprio blasone, sulle pagine di storia calcistica scritte tra i professionisti. Insomma, non basta chiamarsi Giulianova per avere la certezza di vincere il campionato. Bisogna sudarsela la promozione, conquistarla sul campo, lottando dall'inizio alla fine, sino all'ultima goccia di sudore. Se contro il San Salvo i giallorossi nella prima mezz'ora avevano fatto vedere delle ottime cose, a Montorio, in occasione della seconda giornata di campionato, la squadra di Angelo Pagliaccetti non ha giocato una grande partita. Vero è che ha avuto un paio di fiammate, ma il Giulianova deve dimostrare di essere una grande e a Montorio ha manifestato qualche limite caratteriale. Per giudicare, insomma, il Giulianova bisognerà aspettare ancora qualche domenica. Chi invece sta confermando le aspettative, sicuramente il Pineto, la squadra di Lino Ciarrocchi, ha mantenuto la stessa intelaiatura degli ultimi anni e con qualche innesto azzeccato potrebbe essere l'anno buono per centrare i play-off. Delle pretendenti all'assalto di qualità, insomma, il Pineto potrà dire la sua. Da non sottovalutare la Rosetana, che conosce molto bene la categoria, dei quattro punti in classifica, però, la formazione bianca-azzurra rischia di perderne tre in quanto a Miglianico sarebbe stato schierato un giocatore, Francesco Marcheggiani, che in realtà doveva scontare una giornata di squalifica. E ricordiamo che la Rosetana aveva vinto 2-0, un errore, insomma, che potrebbe costare caro. Attualmente la vittoria della Rosetana a Miglianico resta subiudice. Bene anche la Torrese, la formazione neopromossa di Mister Maiorani, ha espugnato lo stadio Aragona di Vasto, confermando di essere una matricola terribile dopo aver imposto il pari anche al Sulmona all'esordio in campionato. A proposito di Sulmona, al di là dei soliti problemi societari, la formazione ovidiana è stata travolta a domicilio dal Civitella Roveto, che comanda a punteggio pieno col Pineto la classifica di eccellenza. In difficoltà l'albadriatica di Pasqualino di Serafino, che chiude la classifica ancora a quota zero. Nel derby interno con la Sant'Egidiese, i Rossoverdi, che in settimana avevano superato in Coppa Italia il Giulianova, hanno perso 1-0. In ripresa il Miglianico, che ha ad Ortona, contro lo Sporting si è imposto 4-1. La formazione teatina, altra favorita del raggruppamento, potrebbe insomma ritrovarsi in vetta alla classifica se il giudice dovesse appunto ribaltare il risultato dell'esordio di campionato contro la Rosetana. Insomma, dopo due giornate di campionato, e non potrebbe essere altrimenti, è ancora presto per azzardare un'analisi più dettagliata, anche perché alcuni valori stentano ancora a decollare. E adesso la palla a mano femminile continua la preparazione delle ragazze della Leader Copteramo in vista della finale della Supercoppa italiana contro il Salerno in programma il 29 settembre prossimo al Pala San Nicolò alle 19. Abbiamo avvicinato Gloria Giannoccaro. Gloria Giannoccaro, si ricomincia? Eccoci qua pronti a riniziare. L'unidì abbiamo ricominciato questa nuova avventura. Ci sono volti nuovi, volti vecchi e adesso stiamo un po' ingranando, infatti siamo qua a San Nicolò, pronte per l'allenamento. Tra i volti vecchi ci sei anche tu, penso sempre con la stessa carica e la stessa voglia di vincere anche quest'anno. Certo, spero che i terramani non si siano stufati di vedermi anche quest'anno. Io ormai a questa città sono affezionata, la società, le compagne e tutto, quindi sono contentissima di essere ritornata ma soprattutto molto volenterosa di iniziare bene quest'anno. Aver vinto lo scudetto l'anno scorso dà un senso di appagamento o la voglia di rivencerlo ancora? Sicuramente la voglia di rivencerlo ancora, anche di appagamento, è una grande soddisfazione e infatti ricominciare l'anno con uno scudetto sul petto fa il suo effetto. Io allora l'ho vinto con il Sassari ma non riusci a giocarci con quello scudetto, quindi questa è una soddisfazione maggiore e io sono veramente molto entusiasta. Il 29 settembre c'è ancora Salerno. Il 29 settembre c'è ancora Salerno, ma noi ci stiamo preparando, siamo tranquille, c'è chi ha iniziato anche prima ad allenarsi e quindi non siamo proprio ai primi livelli, quindi anche se abbiamo iniziato tardi già eravamo abbastanza pronte tutte quante e quindi il Salerno ci aspetta e speriamo di fare una buona figura, una buona prestazione ma soprattutto di vincere perché è quello che noi ci aspettiamo. Prima di salutarci qualche appuntamento su Teleponte, questa sera in prima serata intorno alle 20.30 alla telecronaca di Teramo Gavorrano. Domattina non perdete l'appuntamento con prima di tutto alle 7 in diretta, la rassegna stampa poi gli ospiti e ci potete seguire sempre e comunque anche sul web all'indirizzo www.teleponte.it è davvero tutto, grazie e arrivederci. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.